Musica Anche se non l'abbiamo visto Esatto Oh No un altro Un altro livello di fuga Oh cavolo A parte lo ripeto Aia Me l'ho dimenticato Di sta cosa Aia e che palle Ma porca Meno male che Sid Gli avevamo comprato Un po' di vita extra Perché è impossibile muoversi E mi sa che faccio prima A crepare E a rifarlo qua Come fa A essere più veloce lui Di un veloci raptor Aia Che male Alla fine sarà un esperto No anche gli pterodattili Che Devo fare attenzione A questo Come ho fatto a salvarmi No potenza Direzione sbagliata Cacchio Sono allergico All'essere divorato Uh No E dai Non c'è il pavimento Ma porca No di nuovo i sassi No Uh Le pozze di lava Cristalle Io non so come sto facendo A fare sto Livello Ma che palle Uff Dammi vita Ho bisogno di un po' di vita Per favore Ora la situazione Si fa rovente Grazie La lava non è un buon segno Quanto ci fai che adesso Sto mostrone Muore perché Si te lo fa cadere Tipo nella lava Cose fredde Pensa cose fredde Aiuto Dammi ancora un po' di salute Per favore Un po' di mele Mi farebbe veramente comodo Ah ma devo evitare anche I meteoriti L'ultimo cristallo Grazie Aia Aiuto No pensavo mi avrebbe Di nuovo Cercato di mordere Vabbè Non ho idea di come ho fatto Sopravvivere Onesto Qualcosa brucia Ecco No dai Ti prego Eh vabbè È la fine Sid Mi dispiace È arrivato Buck Lo sapevo Mi volete bene vero Torniamo indietro Non ho salutato i piccoli Spiacente Non possiamo farci niente Quest'uccellino Torna a casa Eccoci che nascono i problemi Nell'abbandono Vabbè Vabbè dai Non ho idea di come siamo sopravvissuti Onestamente A sto livello Però scusami Negozio A questo punto Forza Fatti avanti Eh ok Non c'è nulla Perfetto L'importante è quello Ok In teoria mancano quattro livelli Sono tre viol Tre gialli Tre rossi Due blu E uno verde Quindi tre 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 Due più uno tre Ok